Tu sai da 24 ore che un mago non registrato ha liberato degli animali magici a New York? Sì, dov'è quest'uomo? Allora, tu sei quello con la valigia piena di mostri, eh? Le notizie volano. Signor Scamander, lei non sa niente della comunità magica in America? Non lasciamo libere cose. Ehi, signor tizio inglese, il suo uovo si schiude! Le ha cancellato la memoria, sì? Al nomag. Al cosa? Non magico, al non mago! Scusi, noi le chiamiamo babani. Non credo sia un sogno. Come fai a dirlo? Non ho la capacità di immaginarlo. Qualcosa si aggira per la nostra città! Recando distruzione! Per poi scomparire senza una traccia! Le streghe sono fra noi. Viviamo nell'ombra da troppo a lungo. Ora vi chiedo, per proteggere chi? Noi o loro? Pericolo. Sente il pericolo. C'è un collegamento con le aggressioni di Grindelwald in Europa. Può voler dire guerra. Avete un piano, giusto? Li dobbiamo aiutare. È uscito tutto ciò che c'era nella valigia. Non ne lascerò morire un altro. Mi rifiuto ad inchinarmi oltre. Aiuto! Il tempo sta finendo, signor Scamander. Allora Allora Grazie a tutti